Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui per effettuare la prima estrazione in diretta di My Measuring Dimensions, contest terminato quasi una settimana fa, mi scuso per questo ritardo ma nella settimana appena terminata di cose da fare ne ho avute veramente veramente tante, pertanto chiedendo nuovamente perdono e inchinandomi alla vostra bontà eseguiamo questa estrazione, allora questa era la pagina, My Measuring Dimensions, dal primo all'ultimo commento non contando il paio da me inseriti ne abbiamo 6, per questa estrazione ho scelto random.org, dovrebbe essere un buon metro per poter inserire per esempio da 1 a 6 numeri da 1 a 6 e trovare appunto un numero casuale, in ogni caso in tempi futuri il metodo di estrazione a sorte potrà anche variare. Risultato 3, come vedete, vediamo se riusciamo a zoomare, risultato 3, più che visibile, contatteremo debitamente il commento numero 3. Un saluto, a presto!